Acquisire, conservare, comprendere, elaborare, interpretare, diffondere. Sono i passaggi che separano l'arrivo di un documento in un archivio fino alla fruizione di un pubblico spettatore, all'espressione artistica ispirata da quel documento. Una catena che l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano conosce bene, un'esperienza adesso dalla quale nasce il progetto Store the Future, che per la prima volta si propone di indagare e sistemizzare il rapporto tra conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente. Attraverso l'espressione artistica ed in particolar modo uno spettacolo teatrale. Il progetto vede l'archivio di Pieve Santo Stefano come capofila, gli altri partner italiani sono Open Com e l'Associazione Culturale Teatro di Anghiari. Uno spettacolo che verrà proposto in quattro repliche, di cui la prima ad aprile ad Anghiari, una seconda in Francia a giugno, per poi passare a Pieve Santo Stefano nel mese di settembre e chiudere a ottobre a Lisbona. Il progetto prevede anche di strutturare e formalizzare una figura professionale nuova, un ricercatore archivistico con competenze di produzione artistica, ovvero uno strumento nelle mani del mondo artistico. Di questa fase se ne sta occupando Open Com, la società di Arezzo. Attraverso i linguaggi della musica, degli audiovisivi e della narrazione, una narrazione a metà strada fra la narrazione radiofonica e il racconto frontale, mettere in scena queste storie che sono state oggetto del preliminare di una ricerca da parte dei giovani ricercatori che hanno lavorato negli archivi croati, italiani e portoghesi. Porterà uno spettacolo, una performance che sarà un po' il frutto di questo laboratorio, un incubatore di storie che poi produrranno anche uno spettacolo teatrale, non necessariamente importante in quanto tale, ma importante in quanto appunto la fase terminale di un percorso e quindi il concetto di produzione tradizionale si ribalta perché si parte appunto dalle storie, dal loro trattamento, dall'analisi dei possibili punti di contatto e si arriva poi a un percorso scenico.